In che modo vi ha videutato Bic Lazio e la Regione? Allora, la Bic Lazio ci ha selezionato perché siamo un'azienda giovane, la media dei dipendenti è di 30 anni per l'innovazione delle nostre idee che sono state considerate tra le più innovative delle aziende della Regione Lazio. E qual è la vostra idea? Allora, nell'ultimo anno ci siamo allontanati dal core business che è quello della comunicazione visiva per avvicinarci al campo dell'innovazione turistica. Abbiamo realizzato una cartellonistica turistica interattiva dotata di QR code che è integrato al cartello stradale e all'interno del QR code, inquadrandolo con il proprio cellulare smartphone, si accede a una pagina HTML dedicata al monumento dove puoi vedere la spiegazione del monumento, i luoghi dove mangiare e dormire e accedere a un'audio guida in qualsiasi lingua straniera viene decisa o la video guida in lingua etnia italiana, così anche le persone non odenti possono fruire del bene artistico-culturale. Avete iniziato da Tarquini, adesso vi state espandendo anche in altre città. Quali sono e che tempi tecnici hanno? Allora, sì, Tarquini è stato il progetto numero zero dove abbiamo testato la funzione del progetto che ci è stato richiesto poi anche da altri comuni. Abbiamo cominciato con il circondario, ovvero con Viterbo che è il nostro capoluogo di provincia, con Civita Vecchia che è adiacente a Tarquini e adesso lo stiamo esportando anche in Emilia Romagna, ovvero a Bologna. Perfetto, grazie.